Lei è Pupetta, una cucciola meravigliosa che non è stata adottata quando era più piccola, ora a quattro mesi, ed è ancora in cerca di casa. Quando era piccola era proprio una pallina di pelo, ricciolina, stupenda, eppure nemmeno una richiesta, zero assoluto. Dobbiamo aspettare che cresca ancora questa cucciola per adottarla? No, facciamo in modo che non sia così. Guardate quanto è dolce, chiude gli occhi, si rilassa con le coccole, i grattini. È meravigliosa, di futura taglia medio-grande. Amore, speriamo che tu sia più fortunata adesso, che sei più grande. Bella cucciolina mia, hai sofferto tanto, hai anche avuto la gastroenterite, ma ce l'hai fatta a vincere la malattia. Adesso hai tutti i vaccini e sei pronta per l'adozione. Sei stupenda con questo tocco di rosa, bellissima. Sei anche molto molto vivace, fai vedere. Dove te ne vai, dove te ne vai? Amore, basta stare in canile, in una gabbia, basta. Devi andare in una famiglia adesso. Piccolina. Dolce, pupetta. Amore, ma quanto ti piacciono le coccole? Vedrai quanto sarà bello in una famiglia. Coccole dalla mattina alla sera, non come qui, che non sta mai nessuno con te, perché è pieno di cani e non c'è modo di dedicarsi ai cuccioli. Dolce, ma guarda come fa, proprio chiude gli occhi e rilassata al massimo. La cinesina. La cinesina con quegli occhietti, la cinesina. Amore. E fai, dove vai? Non fai, sì. Bellissima. Bellissima pupetta. Dillo tu, adottatemi. Fai ciao con la zampina, pupetta. Ciao, ciao. Adottatela. Ciao.